Con una scatola di cartone, una lente e un cellulare potete proiettare sul muro un fantasma che sembra vivo. Qui vedete la scena con le luci accese. Spegnendo la luce appare il fantasmino. E questo è il proiettore utilizzato. Qui si mette il cellulare e se uno guarda attraverso il foro, la lente rivela al fondo della scatola la schermata del cellulare su cui sta girando il gif animato del fantasma. Per aggiungere un elemento assurdo, su un lato ho messo questa finta incisione settecentesca dove si vede chiaramente il meccanismo in funzione, il cellulare al fondo della scatola che proietta l'immagine del fantasma.